Sì, sono felice, ma penso di tutta la squadra giocata insieme e per questo vinciamo a ultimi punti, perché tutti erano bravi. Il tuo italiano migliora, come migliora anche la tua conoscenza della squadra, sei sempre più dentro nella squadra e la squadra migliora. Oggi una vittoria forse insperata contro Busto. Il pronostico era per Busto, invece voi avete fatto una grande sorpresa. Sì, grande sorpresa, ma penso che quando giochiamo a casa è sempre meglio, perché i tifosi sono bravi ancora. Pensi di essere una leader di questa squadra? Pensi di poter diventare, di diventare leader di questa squadra? Non so, penso di essere bello per noi quando siamo insieme tutte. Un giorno io, un giorno male, un giorno tutte le altre. Brava, complimenti. Grazie.